Il servizio puntuale per Dybala, la meca su sinistro, la gialla può tirare, se la porta sul destro! Goal! 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 La Juve in gol! 50 secondi in gol di destro da parte di Paolo Dybala. Juve 1, Cagliari 0. 2-1 per la Juve! La passione alla cross, ma assoluto gol del Cagliari! 2-1 per la Juve! La passione alla cross, ma assoluto gol del Cagliari! Sì, sì, sì. Pugge la Vespa e fa tanto, tanto male. Vuole chiudere la partita. Guarda, Guilherme, quadrado. Guarda, 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 guarda. Goal! 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 Il gol europeo pazzesco di Cristiano Ronaldo. Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha messo? Goal! Alessandro vuole il cross e lo trova in metto verso Manzukic. La Juventus è in vantaggio al minuto numero 8. Mario Manzukic. Stacco perfetto a schiacciare il pallone alle spalle di Donnarumma. 1-0, Juventus 1, Mario Manzukic. Cancelo può salire. Cancelo ancora dittore di rigore. Cancelo la parata. Ronaldo! Il raddoppio della Juventus. Cristiano Ronaldo esplode il settore ospiti. Ancora lui. Ancora Cristiano Ronaldo. Minuto numero 36. Cambia in parziale a San Siro. 1-0, Juventus 2. E chi se non lui? CR7! Pianic balla dentro. Goal! 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 Seeeeee. Cristiano Ronaldo. 1-0 Juve. Arriva Douglas dal dietro C'è anche quadrato Douglas Mancino di Douglas Parata porta vuota Gol! 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 Marione! Stiano andato davanti Con la suola a sinistra Gol! 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 La Juve è il gol Sfonda la porta all'ariete Mario Vantukic 1-0 Minuto 58 Secondi 45 A Rodrigo Bentancur 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 Attenzione Bentancur La Juventus È in vantaggio Al minuto 31 Un gol Meraviglioso Di Rodrigo Bentancur Attenzione Attenzione a Chiellini La parata di Ronaldo Il gol della Juventus Il gol della Juventus 2-0 Ronaldo Di scalare mi trovo Ronaldo Il tiro di Ronaldo La pala in rete Fiorentina 0 Juventus 3 Cristiano Ronaldo 3-0 Rigore perfetto Sfonda la porta all'ariete Sfonda la porta all'ariete Marione dentro per Ronaldo tocco dietro Di Bala il gol della Juventus con Paolo Di Bala la riapre la gioia rischia l'arbitro Ronaldo dagli 11 metri parte il tiro di Ronaldo la Juventus ha in vantaggio al minuto numero 25 nel secondo tempo cambia il parziale allo stadio olimpico grande Torino Torino 0 Juventus 1 Cristiano Ronaldo decisivo decisivo cross immediato in aria per Mazzu Goal, 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 goal! La Juve in gol! Sfonda! La porta! La riete! Mario Manzuc risponde il suo colpo di testa, quello di Natale! Il attraverso l'immensa, attenzione verso Kedira, deviazione a pali in rete! La Juventus è in vantaggio! L'autorete al minuto numero due, cambia imparziale la segnatura d'Italia! Atalanta a zero, Juventus uno! La cross in mezzo, attenzione, Kedira colpo di testa, attenzione Ronaldo! Il pareggio della Juventus, Cristiano Ronaldo al minuto numero 33, cambia il parziale a Bergamo! Atalanta a due, Juventus due, e chi sarà lui? CR7! Due a due! Tra l'altro a sinistra per Ronaldo, lo stop di prima, Ronaldo su destra Kirana! Goal, 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 goal! Sì! 1-0 Juve! Varte Ronaldo Destro GOOOOOOOL Ronaldo Tuve a uno Juve